Dove stai andando? Non lo sai chi è? E' Waelke Tendrick, son professionista. E con questo? Ti fa paura, forse? Hai qualche soldo? Così va bene, fratella. Vorrei poter raccontare che Wildcat Tendrick ha giocato con me. Non è meglio in cinque? La carta più alta serve, no? Eh. Grazie. 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 Buono. Io passo. Apro di dieci dollari. Vediamo l'apertura. Vediamo. Grazie. Dalle mie parti si usa tagliare. Grazie. Apro di dieci. Io dico cinquanta. Ce ne vogliono cento. Due. Servito. Grazie. 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 Cento. Più cento. Grazie. 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 Grazie.